E adesso dopo l'apertura invochiamo la benedizione del Signore certi anche del lavoro dalla sua in questo momento vedono qui i tardonati ovviamente sono contenti per quello che abbiamo fatto e stiamo continuando a fare quello che la memoria è importante e i segni lo sono ancora in tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Signore sia con voi preghiamo Signore Gesù noi tutti qui presenti ti preghiamo per i nostri cari, parenti, amici, colleghi caduti nell'attentimento del loro dovere con il segno di questa benedizione chiediamo Signore che tu stenda la tua mano in questo murale che è immortale l'immagine del giudice Cesare Terranova e il maresciallo della polizia di Stato Lei di Pancù Grazie a tutti.